piano 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 imparo vai saltino vai vai via via dai firlone o se faceva un verso così con la scorta hai fatto il tempo a morire e riprendere? esagera si così si ma dove tiene puoi permetterlo se no che doccia adesso qua gli danno zompo della madonna se da come la sua salta su un metro e mezzo non c'è il calone dovevi riuscire ma per lì non ho chiuso di là ah no di là sono belle sono belle perché se arrivi bene fino a quando non si metti in mente a tagliare le coracola non devi arrivare corto perché se no se arrivi corto non va bene se arrivi corto non va bene che è quella lì? è la tua moto sei venuto su è la tua moto è un po' più pesante più pesante poi è più pronta la tua quando gli dai questa invece te la fai più lenta la mia puoi aprire anche da lontano quello non hai visto che ho perso sotto quando stavo salendo? no non sono capace con la tua quando questa qua gli dai sotto ma che quarta come fai a venire su in quarta? quarta? che marcia sei? 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 e AI e AI c'è sono che marcia faccia che marcia il va che marcia in Italia è E' troppo nel giro E' troppo leggera questa qui Quarta E l'ho ripresa lo stesso E' morto E' troppo leggera Ma ti si imbizzalisce 3 secondi E' non siamo abituati Perdi abitudine